E' partito a fari spenti l'8 gennaio scorso e a dieci giorni dal via il progetto di Utopia al Miro al Fiore riscuote già l'apprezzamento della città. Come quest'estate all'alberghiero Santa Marta, tanti pesaresi hanno già fatto visita anche alla formula invernale di lavoro giovane e inclusivo con 60 ragazzi coordinati dalla Onlus Gulliver che tengono vivo il movimento del parco anche nel rigido mese di gennaio con un servizio di bar e ristorazione. Sta andando molto molto bene, abbiamo fatto un weekend molto positivo, non ci aspettavamo così tanta gente perché la gente è poi anche molto incuriosita di questa nuova iniziativa che abbiamo fatto noi. Diciamo che questi ragazzi che sono qua, che hanno lavorato sabato e domenica e anche adesso stanno lavorando, hanno tre tipi di problematiche diverse dove noi dobbiamo cercare di stargli un attimo dietro. Uno hanno dei problemi loro fisici o altri tipi di problemi, l'altro problema sono le scuole che ci mandano dei ragazzi che hanno fatto delle piccole cavolate a scuola e quindi devono scontare una pena, quindi una specie di giustizia riparativa. Terza cosa, ci sono i ragazzi che hanno fatto delle cavolate fuori e quindi vengono qua per cercare di riparare al loro trascorso un po' burrascoso. Questi ragazzi sono qua e hanno dato una grandissima mano sabato e domenica dove abbiamo avuto 100 persone domenica sera cena, 70 persone sabato sera cena perché effettivamente questo è un posto molto bello e dobbiamo riscoprire il parco Miralfiore. Speriamo, noi ce la mettiamo tutta. Siamo partiti alla grande, siamo partiti e ringraziamo tutti quelli che ci sono venuti a trovare perché ci danno la forza per continuare e vi aspettiamo sempre numerosi tutte le sere, vi aspettiamo.